salve a tutti oggi voglio parlarvi di questo digitale terrestre che io lo chiamo invisibile perché è talmente piccolo che possiamo collegarlo alla nostra tv tramite l'hdmi e poi usb che lo alimenta che non si vede l'unica cosa che possiamo vedere è l'occhio che serve per ricevere i raggi infrarossi del telecomando e pensiamo a tutte quelle quelle occasioni che possiamo vedere la nostra tv appesa al muro e se compriamo un digitale terrestre normalissimo quindi che non sono 10 centimetri per 20 e non sappiamo dove posizionarlo in questo caso il nostro digitale terrestre lo possiamo nascondere dietro la tv e ora vi faccio vedere come com'è in questo caso abbiamo lo strong srt 82 uno tra i più piccoli al mondo come digitali terrestri vediamo cosa c'è all'interno sono le istruzioni per l'uso c'è il nostro telecomando che è più grande nel nostro decoder c'è un cavo hdmi di prolunga e poi vi spiego a cosa serve c'è il ricevitore del raggio infrarossi che va inserito dentro sul decoder poi messo davanti alla tv e poi c'è questo che il nostro alimentatore che anche questo vi spiego un attimo come funziona le batterie quindi anche il telecomando ha già le batterie il nostro pezzettino per collegarlo e il nostro decoder che questo qua è l'uovo di colombo tra virgolette allora vediamo tutto che tutte le nostre funzioni che hanno i vari cavi questo questo e questo benissimo il nostro decoder è questo questa minuscola chiavetta usb diciamo così invece è hdmi con i vari ingressi è veramente piccola guardate stra piccola e questo mi permette di collegarlo alla tv senza vederlo e adesso vi faccio vedere come fare allora questo adattatore qui che serve per collegare l'antenna va messo qui e avvitato in questo caso e poi qua ci colleghiamo l'antenna bene questo è l'alimentatore quindi se abbiamo una tv con l'ingresso usb possiamo collegarlo qua e alimentare il nostro decoder così quando accendiamo la tv si accende anche la la nostra usb e in più come vedete questo è un sdoppiamento collego usb alla tv e questo posso collegarli un art disco una chiavetta mi resta sempre usb libero e adesso vi faccio vedere come collegarlo bene questo è il retro della nostra tv allora prendiamo il nostro decoderino lo colleghiamo all'hdmi che qua così bene collegato allora il problema qual è che se io vado a mettere che questa tv è appesa al muro quindi è piatta così questo sporge e non va bene allora o lo collego all'altra hdmi che qui nel fianco come vedete quindi va messo così ok quindi qua l'antenna l'hdmi va collegato qua l'usb che va alimentarmi il mio decoder lo collego qua benissimo e quindi mi resta sempre l'usb libera per collegare qualcos'altro oppure quel cavo che abbiamo visto di prolunga l'hdmi a cosa serve che se noi lo colleghiamo qui perché questa hdmi magari è occupata oppure non è questo resta libero quindi vado a collegare l'hdmi qua questo lo metto qua pensiamo sempre la nostra tv appesa posso metterla come voglio ok questo serve quella prolunga adesso io in questo caso vado metterlo qui in modo che non si vede niente collego il mio cavo dell'antenna me lo porto qua così lo colleghiamo ed ecco giusto per farvi vedere come va connesso adesso vi giro la tv vi faccio vedere che non si vede niente ok come vedete ho collegato il mio decoder l'unica cosa che spunta dalla tv è questo occhietto qua che serve per far ricevere il nostro telecomando strong più grande telecomando del decoder quindi vado a mettere il mio ricevitore qui posso posizionarlo nell'angolo posso posizionarlo qui qui dove voglio io vado adesso vi faccio vedere come fa la ricerca mettiamo lingua italiano bene paese italia italia ricerca canali ed ok e lui parte con la registrazione quindi in questo caso io la mia tv mettiamo che sia appesa al muro che sia in alto che sia che non voglio vedere niente davanti ok per voglio la pulizia totale questo è il decoder giusto in modo da non averne cavi né l'unica cosa è questo occhietto qua che possiamo metterlo nell'angolo nascosto dove vogliamo comunque l'importante che sia davanti per ricevere gli infrarossi del nostro telecomando adesso vi facciamo fare la ricerca poi in volta fatta la ricerca basta basta selezionare la sorgente sulla tv in questo caso io l'ho collegato sull' hdmi 2 e lì basta andare selezionare hdmi 2 e vedo il tutto come sto vedendo adesso la ricerca dei canali bene se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate tasto le notifiche per restare sempre aggiornati sulle ultime novità grazie a tutti e arrivederci